Calcio d'angolo, l'Oriante dentro, Soriano respinge di testa, non calcia Rogerio, palla per Pinamonti! Skorupski, reattivo sul primo pallo, calcio d'angolo ancora! Il suo primo pallone Politano, che va a puntare Bossé, l'esitazione di Politano, il cross col sinistro, arriva Simen, si gira Elmas, stavolta c'è la grande risposta di Silvestri! Filippo Anderson, testa ai riflessi fino all'ultimo di Scesni, che la toglie dall'incrocio dei pali! Bastoni, prende posizione in sola, il cross Bastoni messo fuori, poi la conclusione, grande parata di Montipo, Tsuburabia ha cercato di sorprendere, di controbalzo il portiere! Ancora una volta Montipo, a tenere a galla i suoi! Lancio lungo, bella torre di Diuric, lo scatto di Lasagna davanti al portiere, Lasagna! Zoet, decisivo! Pichel, srotola bene su Sernicola, prepara il cross in area, colpo di testa! Vicario, a dire di no, al primo gol in Serie A-T, di buon aiuto! Deolofeu, punta l'area, tocca per Beto, cerca spazio per il tiro, glielo nega Kim, il cross di Sibu e il tacco di Deolofeu! La risposta di Meret, tutto bellissimo, si resta sullo 0-0! Parte Lukman, pallone a centro area, colpo di testa! Ancora un'ana, dopo la deviazione di Palomino, a salvare l'Inter! Leris, Diuricic, palla per Montevago, in aria, Gabbiadini, a occhio a Gabbiadini, che prova il tiro! Deviazione di Falcone, che mette in calcio d'angolo! Comincia così la giornata da ex di Falcone, subito una grande parata su Gabbiadini! Grazie a tutti!